Tratto da un'omonima opera teatrale portata in scena nel 2014 da Emma Dante, Le sorelle Macaruse, il quarto film italiano in concorso a Venezia 77. Qui si ritrovano tutti i temi aleicari. La famiglia, la violenza dei legami di sangue, la coralità, il confine irrequieto tra la vita e la morte. E la storia di cinque sorelle, di una famiglia, di chi va e chi viene. E un luogo del cuore, il Charlton, uno stabilimento balneare. Per me è un luogo del cuore perché ci andavo quando ero piccola e con gli amighetti mi infilavo sotto la palafitta perché il Charleston è costruito con questi piloni direttamente nell'acqua e quindi sotto il riverbero della luce, il suono che facevano le nostre voci quando giocavamo mi è rimasto impresso e ce l'ho rimesso perché poteva essere un posto bello dove appunto creare questo cortocircuito. Poi in conferenza suona un cellulare e la reggita si spazientisce. Una di queste sorelle... spegnilo il telefonino. Una di queste sorelle... forse non lo sa spegnere. Una di queste sorelle, appunto Lia, ha una passione. Legge sin da quando è piccola. Si prende i libri e se li nasconde nel cassetto. Poi man mano che va avanti nella storia li porta su in Colombaglia perché la Colombaglia viene dismessa e diventa una specie di grande libreria di questa Lia che è l'ultima a lasciare la casa. Piccolo contrattempo che non oscura gli applausi e i consensi dei critici per il film. Finisce la penuccia. Finisce la penuccia.